direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi martedì 9 luglio il jackpot ha raggiunto la cifra di 184 milioni 277 mila 246 euro il più alto al mondo 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via l'estrazione del concorso numero 82 inizia il mescolamento automatico delle sfere siamo per scoprire se numeri vincenti più numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero primo numero estratto è il numero uno siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 20 il terzo numero stai arrivando terzo numero estratto è il numero 74 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 54 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite quinto numero estratto è il numero 59 è il momento di incrociare le dita siamo per completare la sostina vincente il sesto numero estratto è il numero 26 dopo i suoi numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme ai cinque numeri della sostina vincente potrete realizzare la grande vincente del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 52 controlliamo insieme la sostina vincente in ordine di estrazione il numero jolly 1, 20, 74, 54, 59, 26 il numero jolly è il numero 52 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super a una lotta fino a 100 volte premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna, pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 62 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 82 in ordine crescente 1, 20, 26, 54, 59, 74 numero jolly 52, superstar 62 l'estrazione di oggi martedì 9 luglio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo fra poco per scoprire se il jackpot di oltre 184 milioni e 200 mila euro il più alto al mondo è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati, poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 82 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super analotto assegna 552.283 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 184 milioni e 200 mila euro il più alto al mondo sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super analotto non è stato realizzato il jackpot cresce ancora per arrivare a 185 milioni e 700 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6, nessun 5 più 1 i 5 sono 5 e vincono 51.421 euro ciascuno i 4 sono 656 e vincono 397 euro ciascuno i 3 sono 29.118 e vincono 27 euro ciascuno i 2 sono 481.281 e vincono 5 euro ciascuno e in questo concorso sono state assegnate ben 18.096 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella nessun 4 stella i 3 stella sono 135 e vincono 2703 euro ciascuno 100 euro vanno i 1.801 2 stella 10 euro 12.559 1 stella e 5 euro 26.728 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi su Pranalotto vi dà appuntamento giovedì 11 luglio e giocheremo per un jacksfoot di 185 milioni 700 mila euro arrivederci vi ringrazio per osse